Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti al convegno internazionale transeuropa con cui OBC, Osserotorio Balcani-Caucaso, festeggia i suoi 15 anni di attività. Osserotorio Balcani-Caucaso è un progetto della Fondazione Opera Campana dei Caduti e ha da sede a Rovereto dall'inizio della sua storia. Vi ringrazio di averci raggiunti numerosi per aiutarci a riflettere sull'Europa di oggi e di transeuropa per via dell'accento che vogliamo dare proprio al contributo della società civile, alla politica internazionale e al rafforzamento della sfera pubblica europea. Transeuropa vede riunite le organizzazioni che si occupano di politica internazionale in Trentino e che ringrazio per il contributo intellettuale che ci daranno oggi nel corso della riunione, per aver contribuito con noi all'elaborazione di questa iniziativa e anche per il contributo materiale che hanno voluto dare a questa iniziativa. Questo evento è nato in collaborazione ed è stato possibile grazie al sostegno del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, all'Università di Trento e in particolare al Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet, alla Scuola di Studi Internazionali, al CERPIC dell'FBK e al Centro per la Formazione e la Solidarietà Internazionale. E ringrazio anche altri due soggetti, uno italiano e uno tedesco, che si sono uniti a noi in questo esperimento di convegno a rete, la rivista Il Mulino con Bruno Simili e lo European Center for Press and Media Freedom di Lipsia. Con entrambi stiamo lavorando assiduamente, in un caso sul progetto della libertà dei media in Europa, cofinanziato dalla DigiConnect, della Commissione quindi, e con la rivista invece bolognese abbiamo inaugurato una collaborazione editoriale che speriamo ci porti lontano. Abbiamo deciso di chiamare TransEuropa a questo convegno proprio per sottolineare la nostra convinzione che sia la costruzione di reti transnazionali e, grazie alla loro dinamica, che si regge l'Europa e il nostro spazio politico se si apre la relazione con il resto del mondo in chiave democratica e liberale. Dopo i giorni dello shock per gli attentati di Parigi vorrei dedicare il nostro convegno a Kyla Müller, un'attivista americana con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare, che è morta in Siria, sotto fuoco amico, dopo due anni di prigionia nelle mani dell'Isis e del suo capo al Baghdadi. Con Kyla avevamo ideato, nell'aprile del 2013, un progetto approvato dall'Handalin Foundation che ci avrebbe portato a lavorare sul tema dei profughi della guerra in Siria nei campi della Turchia. La sua ONG, Support to Life, non se l'è sentita ad implementare il progetto perché aspettava il ritorno di Kyla, che tragicamente non si è mai avverato. Negli ultimi anni, in Italia, chi come Kyla credeva nella solidarietà e nella necessità di una forte mobilitazione internazionale è stato considerato un avventuriero, un irresponsabile, un peso per le casse dello Stato per via dei riscatti da pagare in caso di rapimento. Fortunatamente, in tutta Europa, negli ultimi mesi, c'è chi ha ricominciato a credere nella forza della società civile sulla rotta balcanica e, in mezzo a tanta disperazione, sfruttamento, cinismo da parte dei trafficanti ma anche delle autorità in balia della xenofobia, ha cominciato a portare aiuti e a lavorare in sostegno della già attiva società civile dei paesi balcanici stessi. Da anni seguiamo la rotta balcanica e già nel 2010 avevamo pubblicato un pluripremiato reportage inchiesta sulle rotte migratorie tra Afghanistan e in Italia di Paolo Martino. Avremmo voluto fare molto di più in questi anni, ma la crisi ci ha messo a dura prova. Abbiamo dimostrato di poter resistere grazie al sostegno della nostra comunità e alla rete delle reti che ha reso a tutti evidente l'esistenza di un forte interesse italiano ed europeo verso il lavoro che svolgiamo. E naturalmente grazie al sostegno della provincia che si è poi concretizzato nuovamente. Questo convegno è una promessa a tutti voi che ci avete incoraggiato a resistere che continueremo ad animare in modo sempre più efficace le reti della società civile transnazionale a dare voce a chi è impegnato per democratizzare la politica internazionale. Iniziamo il pomeriggio di lavori ascoltando la lezione introduttiva che poi avremo modo di ascoltare del senatore, professor Francesco Palermo, docente di diritto pubblico e direttore dell'Istituto di Federalismo e Regionalismo dell'Eurac di Bolzano, che ha una approfondita conoscenza dei temi che trattiamo, dell'Europa orientale, delle questioni politiche e giuridiche che la attraversano. Seguiranno tre workshop, tre paralleli, dedicati a tre temi su cui stiamo lavorando intensamente. Le sfide poste all'Europa dalla cosiddetta rotta balcanica, i profondi mutamenti della politica internazionale vent'anni dopo Dayton e la tutela della libertà dei media nei paesi europei. I relatori di OBC presenteranno dei position paper che abbiamo elaborato in una riflessione collettiva. I relatori e i convenuti dovranno discutere insieme al pubblico le questioni fondamentali che cerchiamo di far emergere e ci auguriamo di poter riformulare così la nostra prima riflessione e metterla pubblica sul nostro portale. I partecipanti al workshop naturalmente potranno contribuire al dibattito sia nei workshop che successivamente poi nella sessione plenaria conclusiva dove avremo modo di presentare i tre rapporteure, ripresenteranno le questioni principali emerse nei tre workshop e ci aiuteranno a concludere la nostra giornata. I miei ringraziamenti a questo punto oltre a quelli di tutti i già citati enti che hanno contribuito a questo progetto vanno ma anche al sindaco di Rovereto alla mia sinistra che con la città ha patrocinato l'iniziativa, questa iniziativa che ospita Rovereto fin dalla sua nascita nella sede di Piazza San Marco e che ha sostenuto questo convegno nella prestigiosa sala del MART che come sapete è in un orgoglio cittadino. A lei, dottor Valduga, la parola. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Rovereto. Siccome questo convegno viene svolto in occasione dei 15 anni di attività di OBC sul nostro territorio permettetemi innanzitutto di esprimere il mio apprezzamento, l'apprezzamento dell'amministrazione comunale per l'attività che in tutti questi anni è stata appunto svolta dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della produzione scientifica, dal punto di vista della sensibilizzazione al dialogo e al confronto. Permettetemi però anche di esprimere il mio ramarico nel constatare quotidianamente quanto purtroppo abbiamo ancora da fare. I fatti di questi ultimi giorni ce lo dimostrano in maniera, se vogliamo, tragica e più vicina a noi, ma di fatto abbiamo una quotidianità di relazioni con il mondo che ci testimonia come effettivamente il diritto alla pace non sia assolutamente esteso e come anche per le zone che lo avevano conquistato non sia assolutamente un diritto acquisito. E' assolutamente importante ripartire dal comportamento dei singoli, dal comportamento di ognuno di noi, per cui mi sembra particolarmente significativo che questo convegno ci parli della necessità di reti di società civile, di quanto sia necessario ripartire dall'individuo e da comportamenti individuali che poi si radunino in comunità solidali che poi a loro volta si confrontano tra di loro. Abbiamo parlato anche in un recente convegno promosso da Lanci alla campana dei caduti in occasione dei 90 anni di Maria Dolenz. Abbiamo parlato anche recentissimamente questa settimana nel circolo delle città della pace a Strasburgo e effettivamente è da lì che dobbiamo ripartire cercando di costruire progetti che ci permettano di incidere in maniera ancora più significativa di quanto si sia già tentato di fare sui comportamenti dei singoli. Nel nostro primo incontro con Luisa Chiodi abbiamo proprio discusso di quanto sia importante individuare degli indicatori che ci permettano di capire quanto di tutta quella enorme mole di lavoro, di ricerca, di produzione scientifica di cui parlavo prima poi si traduca in effettiva modifica di cambiamento di comportamento. È assolutamente necessario che insistiamo su questi aspetti partendo direi prima di tutto dalla formazione dei giovani, dalla nostra assidua costante presenza nelle scuole ancora di più di quanto ripeto sia stato fatto. Quindi abbiamo ancora molto da fare insieme, la mia presenza qui è per testimoniare appunto la disponibilità da parte del Comune ad assumersi in questo senso tutte le sue responsabilità e tutta la voglia di collaborare e io credo appunto che se rivestiamo di ulteriore concretezza i nostri progetti daremo maggiore solidità a quel lungo, faticoso ma necessario percorso di costruzione di pace e di estensione del diritto alla pace. Grazie a tutti voi e buona festa anche per questa sera. La parola a questo punto invece la passo volentieri all'assessora Ferrari, però è dall'altra parte chiedo scusa, che rappresenta l'assessorato che è il nostro principale interlocutore politico in primis perché è donatore strutturale del progetto osservatorio Balcani-Caucaso e anche l'ente che ha voluto la nascita e ha sostenuto l'osservatorio in tutti questi 15 anni. Sara. Grazie. Buon compleanno a tutti allora. Siamo arrivati a una certa maturità anche di questa esperienza. 15 anni non sono pochi. È una buona occasione quella che avete organizzato oggi per riflettere sul ruolo e la funzione di questa esperienza e come oggi possa stare in maniera assolutamente aggiornata e sul pezzo nella situazione che stiamo vivendo. È evidente che gli eventi di questi giorni che noi vediamo con fatica interpretati in tantissimi modi da tantissimi soggetti diversi possono trarre giovamento dal avere un luogo, uno strumento che possa fornire delle informazioni che potrei dire corrette nella misura in cui sono informazioni autentiche. sono cioè il risultato di osservatori diversi sul campo, osservatori di prima mano e necessariamente e sperabilmente forniscono quelle informazioni che oggi sono fondamentali perché poi si possa interpretare e di conseguenza agire nella situazione che stiamo vivendo nella maniera, si spera, più adeguata possibile. È evidente che il territorio di analisi di Osservatorio Balcani-Caucaso oggi è un territorio centrale per le rotte di cui parlerete poi dopo in uno dei focus. Lo è perché il processo di ingresso nell'Unione Europea e i rapporti di vicinato con quel territorio sono prioritari nell'agenda europea. non solo, come membro del Consiglio nazionale della cooperazione allo sviluppo siamo chiamati il 9 dicembre ad approvare un documento del Ministero che ragiona in questo momento sul ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e nell'area balcanica. E dunque è assolutamente prioritaria anche per l'agenda italiana l'attenzione sull'area di cui Osservatorio Balcani-Caucaso si interessa da così tanti anni. È evidente che questo tipo di patrimonio, patrimonio di esperienze, di conoscenze, di competenze che Osservatorio ha maturato in questi anni non può essere un patrimonio di esclusivo interesse trentino perché altrimenti subisce le fatiche che voi, inutile negarlo, avete visto in questi periodi subisce le fatiche di un bilancio economico della provincia autonoma di Trento che non è, a mio avviso, il soggetto unico adeguato a sostenere una iniziativa di così ampio respiro. La provincia autonoma di Trento può continuare ad essere, lo sarà, perché il bilancio garantisce la continuità del progetto. Il sostenitore principale di questa esperienza non è in grado di garantirne quello sviluppo e quella valorizzazione che invece quello che fino ad oggi è stato messo in campo e quello che abbiamo in mano può meritare, forse deve meritare, forse ha interesse comune che meriti. Allora posso dirvi che abbiamo cominciato un lavoro comune di confronto con alcune regioni italiane che hanno espresso il desiderio di collaborare con l'Osservatorio con noi e con l'Osservatorio Balcane-Caucaso su progettualità condivise, su progettualità che sono in questo momento in essere grazie all'Unione Europea. ma abbiamo anche iniziato a lavorare su, e qui mi riferisco all'Emilia Romagna, non so se avete letto del nostro resoconto di una nostra breve visita, ma interessante, presso la vicepresidenza dell'Emilia Romagna, così come altrettanto interesse è stato espresso dalle regioni Friuli-Venezia-Giulia a lavorare insieme, fruendo appunto delle competenze di Osservatorio Balcane-Caucaso. Altrettanto, nella chiave che dicevo prima, e cioè nel riconoscimento che l'area balcanica è di interesse primario anche nell'agenda nazionale, il lavoro che stiamo facendo è quello di valutare come il nostro Paese può riconoscere in questa esperienza, come altre, ve ne sono altre, ma questa nella sua particolarità, può essere un gioiello, può essere un'esperienza unica e ricca che può servire anche agli interessi del Paese. Questo è l'altro fronte che stiamo cercando di percorrere, nella misura in cui appunto questa collaborazione più ampia, che non limitata all'interesse specifico solo del finanziatore trentino, possa garantire a Osservatorio Balcane-Caucaso il dispiegarsi più ampio delle sue potenzialità. Questo è l'impegno che noi abbiamo assunto e che stiamo percorrendo in questi mesi perché questa esperienza possa avere non solo un seguito, ma anche una funzione di interesse generale. Grazie. Quindi speriamo di farcela. Ci contiamo, contiamo sull'impegno politico espresso ripetutamente e ci auguriamo di poter ottenere questo risultato e se no ci auguriamo comunque che il lavoro fatto in questi anni possa avere un proseguio visto la rilevanza di quello che facciamo, magari in altra forma, ma comunque è visto così la nostra convinzione della centralità e dell'attualità del lavoro non soltanto nel passato ma anche nel futuro. È venuta per i saluti a nome del Forum Trentino per la Pace Micaela Bertoldi. Il Forum Trentino per la Pace è una delle reti con cui noi lavoriamo ed è anche per di più il soggetto di dialogo tra la società civile trentina e la politica trentina. ed è intrinsecamente il nostro, è il primo nostro sostenitore di quello che ha affidato l'osservatore Balcani-Caucaso alla campana dei caduti 15 anni fa. Quindi sono molto felice che sia venuta Michela Bertoldi a darci i suoi saluti. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui a testimonianza del fatto che la comunità trentina è davvero presente e sensibile a quelle che sono le varie aree di tematiche che l'osservatorio Balcani-Caucaso intercetta nella sua azione. Credo che mai come in questi giorni la necessità di riflettere su quello che sta succedendo nel mondo e nel mondo a noi molto molto vicino evidentemente sia stata così acuta, così forte, così presente. Ma credo che sia abbastanza normale e anche abbastanza facile tutto sommato rispondere nella logica dell'emergenza ai grandi fatti che sconvolgono proprio emotivamente e che chiamano in causa anche le singole coscienze, come veniva detto prima. Credo però che la realtà che noi dovremmo sempre più implementare è proprio quella di istituzioni, di luoghi dove l'atteggiamento riflessivo sull'insieme della condizione dei vari paesi del mondo sia una costante, sia un impegno quotidiano di indagine e di ricerca. Il Forum Trentino per la Pace, che giustamente come ricordava Luisa Chiodi, rappresenta una bella parte di voci di società civile perché raduna tante associazioni che si sono dette interessate a lavorare sui temi dei diritti e della costruzione della pace, è sicuramente una bella realtà che fa capo al nostro Consiglio provinciale, che dialoga quindi a livello diverso di quello che dovrebbero essere i piani dei confronti fra le forze politiche. Però intende dialogare proprio in termini politici rispetto ai nodi delle questioni e quindi a maggior ragione sull'importanza della scadenza che oggi qui si ricorda e quindi sull'importanza dell'osservatorio Balcani-Caucaso. Il Forum si è più di una volta espresso, ma proprio perché si ritiene che non sia mai adeguato il nostro strumentario, la nostra attrezzatura conoscitiva di quello che succede nel mondo. In particolare, a partire da una critica a quello che è il ruolo di solito dei media che trasmettono alcune informazioni e altre le tacciono, che piegano anche l'opinione pubblica troppo spesso in direzioni non sempre del tutto corrette o comunque che non riportano tutti i punti di vista, sapere di avere un luogo che fa ricerca e che riporta l'informazione degli scenari a noi vicini, dell'altra sponda del Mediterraneo, dell'area dei Balcani, dell'area del Caucaso, delle aree che oggi sono particolarmente in movimento, significa sapere di avere un punto di appoggio per cercare di cominciare a capire qualcosa. Ecco, io credo che mi sento di poter denunciare a nome del forum la nostra generale diffusa sostanziale ignoranza di quello che sta succedendo. Proprio per questo motivo c'è un grande bisogno di sapere, di conoscere, di saperne di più. In questo senso, tutti i luoghi, come il Centro di Formazione della Solidarietà Internazionale, come l'Osservatorio Balcani-Caucaso, come il forum, come i luoghi dell'università, come i vari soggetti che sono partner in questa rete che ha costruito il momento di oggi, sapere che esistono questi luoghi e che si interconnettono fra di loro è una garanzia di possibili spazi di democrazia. Quella democrazia che si avverte oggetto di attacco pesante dal terrorismo diffuso di questi giorni, quella democrazia che però non può mai essere a senso unico evidentemente, ma va declinata in maniera molto plurima, molto plurale. E credo che noi in Trentino abbiamo questa possibilità di rinforzare questi luoghi, a maggior ragione se partiamo dalla consapevolezza che c'è un grande bisogno di rimpostare lo sguardo con cui si analizzano i fenomeni sociali e rimpostare lo sguardo con il quale la politica affronta le grandi questioni di questa epoca. Ecco, io credo, e questo è l'augurio che faccio a nome del Forum, ma evidentemente è un augurio che faccio a noi tutti, che l'Osservatorio Balcani-Caucaso svolga nel proseguio questa funzione, in collaborazione con tutti gli altri soggetti di cui dicevo prima, proprio perché c'è bisogno per i nostri politici, per la nostra politica, di un luogo di formazione, di costruzione, di saperi, di conoscenze, che ci aiuti a superare gli stereotipi e anche le letture che ci vengono proposte, a volte in maniera troppo schematica, e che ci allontanano dall'essere pronti ad affrontare le sfide di una società contemporanea. In effetti le paure, i timori, i problemi delle migrazioni, il come questi vengono affrontati, pervadono poi la società civile, quotidiana, le persone singole, e si traducono in rivendicazioni, corporazioni o d'altro. E credo che questo sia un problema rispetto al quale tutti noi siamo chiamati a dare un piccolo contributo, ciascuno ovviamente per la propria parte. Ringrazio davvero l'Osservatorio Balcane e Caucaso per tutto quello che ha fatto in questi anni e sicuramente gli auguro una lunga vita. Grazie. Sarà perché ci sentiamo ancora adolescenti con i nostri 15 anni che appunto riteniamo veramente fondamentale quello che hai detto, cioè il mettere, mettisi attorno a un tavolo insieme a discutere, ragionare perché non è facile la lettura del tempo in cui viviamo. E quindi tanto più bisogna farla insieme. Ringrazio chi ha voluto portare i saluti e tengo sul palco il nostro e il professore Nio Grassi, ma invito però prima che rappresenta la tavola rotonda con cui concluderemo la nostra giornata. Ci tengo però a invitare sul palco invece il professore Francesco Palermo, a cui abbiamo dato l'onore, o meglio l'onere, con la sua prolusione, di dare avvio alla nostra giornata di lavori. Francesco conosce molto bene il lavoro di osservatorio, dove preferisci? Il lavoro di osservatorio conosce molto bene questi paesi e quelle questioni e anche come la politica oggi affronta o deve affrontare la sfida del nostro tempo. E quindi a te la parola Francesco. Grazie Luisa per queste parole introduttive, grazie soprattutto dell'invito, grazie anche di questo compito difficile, perché cercare di mettere insieme temi così complessi e oggettivamente difficili è una bella sfida, però è appunto anche molto divertente e ci proviamo. Come ha detto giustamente, molto opportunamente, Michela Bertoldi, ringrazio veramente anche per il lavoro di riflessione che l'osservatorio ha fatto fino ad adesso e che sicuramente continuerà a fare. Io arrivo direttamente quasi da Strasburgo, dove appunto c'è stata una seduta del comitato consultivo della Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. Questa convenzione, al pari direi di Osservatorio Balcani e Caucaso, è uno dei prodotti della rotta balcanica di vent'anni fa. Nasce a seguito delle riflessioni che si sono poste in quelle circostanze per dotarsi di strumenti che nelle diverse funzioni dessero la possibilità di rispondere alle sfide per le quali, all'epoca, la comunità internazionale chiaramente non era preparata. Direi forse questi due, la Convenzione Quadro e Osservatorio, insieme ad alcuni, pochi altri, possono forse essere definiti come i migliori prodotti della rotta balcanica degli anni 90. Il lavoro, tra l'altro, di Osservatorio è sicuramente molto utile, soprattutto da quando coerentemente e in maniera costante si produce anche in lingua inglese, è molto utile anche per i lavori al Consiglio d'Europa. Ma certamente, sia nella Convenzione Quadro, sia nel lavoro di Osservatorio, sia in quello di altre istituzioni che hanno un ruolo in quest'ambito, si pone una sfida di come affrontare la rotta balcanica di oggi. Sono passati 20 anni, è passato, è cambiato il mondo, se vogliamo, ma la rotta non si è mai interrotta e si è sempre incrociata con la rotta europea, sia in tema di politica estera e di vicinato, cioè la rotta balcanica per l'integrazione in Europa, cioè il rapporto tra quei paesi e la aspettativa, l'aspirazione di adesione all'Unione Europea, ma poi ci tornerò, sia, e mi concentrerò in particolare su questo punto, per la sfida interna dell'Europa, ciò che la rotta balcanica rappresenta per l'Europa al suo interno. La rotta balcanica, possiamo chiamarla, per l'integrazione dell'Europa, anziché nell'Europa. Certamente è cambiata molto la rotta, sono cambiate le sfide, anche se questo flusso, in qualche modo, non si è mai interrotto. Il problema qual è? Che gli strumenti non si sono adeguati. Da giurista, mi occupo soprattutto di questo, di fare il meccanico, di aggiustare gli strumenti, e noto un problema, non secondario da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di cui si è dotata in quegli anni la comunità internazionale, e parlando soprattutto di tutela delle minoranze, che è uno degli aspetti, certamente importante, ma non l'unico, di questo mosaico, vedo che siamo rimasti con gli strumenti di vent'anni fa. E questo è un problema, perché senza gli strumenti adeguati, si va inevitabilmente a guardare alle persone, e ad avere delle aspettative eccessive rispetto agli individui, che però, se non sono dotati degli strumenti necessari, ahimè, possono fare tutto sommato poco. Allora, io mi concentro su due punti soltanto, perché il tempo è poco e i temi sono complessi, ma vorrei cercare di mettere sotto uno stesso tetto l'aspetto della sfida e l'aspetto della partecipazione che abbiamo. E quindi parlo prima degli strumenti, cioè del cosa, di come utilizzare questi strumenti, e poi parlerò della partecipazione, dei rapporti con la società civile, di cosa aspettarsi dalla società civile e di cosa non aspettarci. E tutti questi fanno parte, diciamo, della sfida che la rotta balcanica ci pone, che è, come dicevo, non soltanto quella di gestire i rapporti con questi paesi e con i flussi che li attraversano e che inevitabilmente premono sulle frontiere d'Europa, ma anche e soprattutto come affrontare la tenuta interna delle società europee alla luce di queste sfide poste dalle rotte balcaniche, dai paesi e dalle persone che le attraversano. Partiamo dal primo punto. Gli strumenti, come dicevo, ahimè, degli strumenti non più necessariamente adeguati. Negli anni 90 la crisi internazionale che si è manifestata soprattutto nei conflitti armati balcanici, anche se non solo, ha mobilitato molto la comunità internazionale. L'ha mobilitata spingendola a dotarsi di nuovi strumenti. Possiamo dire che sia stata una crisi motivante per l'Europa che ci ha realizzato di non essere preparata, ma nel giro di pochi anni si è dotata di alcuni strumenti importanti. La crisi odierna, invece, mi sembra più grave perché, anziché essere motivante, è paralizzante. L'Europa, anch'essa, ancora una volta, si trova impreparata alle sfide. Questo, se vogliamo, è normale. Però, invece di reagire con degli strumenti efficaci o con la modifica degli strumenti esistenti, non fa nulla. Si resta così. Si cerca al massimo di rispondere alle emergenze, ma non c'è quella capacità di motivare la società europea ad avere degli strumenti più adeguati per rispondere. Anche se poi, nell'elaborazione accademica, politica, diplomatica, della società civile, si sa benissimo almeno cosa si debba fare per rispondere alle sfide più immediate. Il superamento del sistema di Dublino, la creazione di un sistema unico di accoglienza e di asilo, l'ammissione umanitaria, il reinsediamento, i corridoi umanitari, i congiungimenti familiari, sono tutti temi su cui si discute e sui quali, lentamente, ma si andrà anche avanti. C'è stato, tra l'altro, ci sono tutta una serie di risposte, l'ultima era questo vertice alla balletta di qualche giorno fa, sulla collaborazione, soprattutto con i paesi africani. Ma sono tutte risposte emergenziali e non strutturali, a differenza di quelle che si sono date negli anni 90, in cui si è saputo prendere la sfida dell'emergenza per dare una risposta di struttura. Ecco, dal punto di vista di chi si occupa degli strumenti, mi preoccupa il fatto che gli strumenti che piano piano stanno vedendo la luce in questo periodo non abbiano queste caratteristiche strutturali e al più si risolvano in strumenti di tipo emergenziale. Soprattutto non c'è una visione su cosa fare dopo, dopo l'emergenza. Guardare un po' più avanti ed è per questo che servono think tank, servono riflessioni, servono momenti di approfondimento a mente fredda, anche se è difficile in periodi come questi. Partiamo da un dato che mi ha colpito molto, che ho sentito la settimana scorsa, che viene dal Ministero Federale dell'Interno tedesco. La Germania, come sappiamo, a seguito di questa emergenza a profughi, chiamiamola così, accoglierà più o meno un milione di persone soltanto nell'anno in corso 2015. I conti del Ministero sono che con gli strumenti del ricongiungimento familiare ed altri strumenti che esistono, più o meno la cifra poi delle persone che arriveranno a risiedere legalmente in Germania potrebbe essere moltiplicata per 5 fino a 8, diciamo 5-6 milioni di nuove persone che arrivano in una società già abbastanza eterogenea e altri paesi, seppure magari con magnitudine minore, stanno vivendo fenomeni simili. Le domande che ci si pone sono quelle probabilmente sbagliate. Cioè, ci si chiede come integrare le persone, non come integrare le società. E questo, secondo me, è il punto fondamentale da cui partire. Si può pensare, spero che non lo faccia la Germania che abbia sicuramente imparato dagli errori del passato, a utilizzare il modello Gastarbeiter. Gli diamo un lavoro e poi o si assimilano o se ne vanno. Questo è diciamo il sistema binario su cui si basavano gli strumenti degli anni 60. Oppure si può usare il modello italiano per cui non si dà né il lavoro né l'assimilazione nella speranza che se ne vadano in Germania o non lo so che cosa succede. È una battuta ma fino a un certo punto purtroppo. Oppure magari il modello francese dell'assimilazionismo gli si dà una prospettiva di cittadinanza e poi si lascia tutto così e vediamo le tragedie di questi giorni e vediamo che oggettivamente anche lì qualche cosa non ha funzionato. si pensa all'integrazione quindi di persone nella società come se la società fosse un monolite fosse qualcosa che non cambia che non evolve che c'è una società maggioritaria entro la quale si può far confluire più o meno un certo numero di persone che devono diventare in qualche modo omologate a questa società. Non è così che funziona. Non si pensa mai invece all'integrazione della società in quanto tale che cambia e cambia anche moltissimo attraverso la presenza di nuovi soggetti che vanno a modificare la cultura complessiva e nemmeno si accetta di utilizzare in via interpretativa e questa è una cosa che sto vivendo molto a Strasburgo in questo momento di utilizzare gli strumenti di integrazione esistenti come la convenzione quadro come alcuni altri perché si dice ma qui si andrebbe oltre il mandato limitatevi ad occuparvi di minoranze nel senso tradizionale del termine perché sono qualcosa di diverso rispetto ai flussi migratori certamente è vero chiaro non si mette in discussione la cosa però poi guardando dal punto di vista degli strumenti la tutela e l'integrazione avvengono attraverso il stesso tipo di strumenti se ci pensiamo bene sono i diritti linguistici diritti di partecipazione diritti culturali all'istruzione eccetera eccetera poi la non discriminazione i media come vengono presentate certi fenomeni all'interno dei media eccetera eccetera cioè gli strumenti alla fin fine sono sempre gli stessi possono essere utilizzati la differenza è utilizzarli come fattori integrativi o come fattori di esclusione e lì la scelta dipende dalla scelta che si fa nelle società pensate alla cittadinanza la cittadinanza può essere un fattore forte di inclusione anche se appunto non l'unico dicevo il modello francese non è semplicemente non è tutto rosa e fiori per essere molto diplomatici però certamente come ci ricordano organismi internazionali come ad esempio il comitato diritti umani dell'ONU un approccio eccessivamente selettivo alla cittadinanza rappresenta una violazione arbitraria dell'articolo 25 del patto internazionale sui diritti civili e politici e allora pensiamo un po' a come ci rapportiamo con la cittadinanza la definizione di integrazione che dà l'Unione Europea ancora nelle sue politiche è molto molto banale ed è e si basa soltanto su questo l'integrazione è il processo che porta le persone che non sono dotate di cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea e dunque di cittadinanza dell'Unione a diventare cittadini mi sembra un po' pochino e non è esattamente quello di cui forse abbiamo bisogno può essere uno strumento molto attivo può essere uno strumento segregativo molto forte ancora la lingua quanto che strumento potente è la lingua tra fattore di inclusione ma anche fattore di esclusione per stare a dare coperte dal lavoro di OBC si stanno moltiplicando come sappiamo leggi linguistiche che formalmente sono anche delle cose interessanti e positive in moltissimi paesi che poi hanno l'effetto di segregare escludere mandare via possibilmente le persone appartenenti a minoranze o comunque coloro che non parlano quella lingua come prima lingua dalla Slovacchia all'Ucraina recentissimamente la Georgia tutti con la stessa logica tendenzialmente esclusiva e anche qui c'è un po' da preoccuparsi e ancora l'ambito di applicazione degli strumenti internazionali pensate all'Italia che non include che ha un sistema molto sviluppato di tutela delle minoranze e poi non include la minoranza più problematica e più discriminata che sono i rom c'è qualcosa che non funziona anche lì creando dei ghetti molto pericolosi anche per le maggioranze non soltanto per le minoranze e ancora le forme sottili di discriminazione attraverso le gerarchie sociali la sicurizzazione dei fenomeni delle minoranze del diverso cioè stiamo andando in una direzione in cui probabilmente gli strumenti non sono non sono quelli adatti e quelle poche cose che ci sono vengono utilizzate più come fattore di esclusione che come fattore di inclusione gli strumenti negli anni 90 sono stati pensati per situazioni diverse ma queste situazioni si sono semplicemente evolute modificate così come chi ha accompagnato queste cose come per esempio il comitato consultivo come per esempio OBC e come altri soggetti si è sviluppato necessariamente è andato oggi il lavoro che fa OBC è diverso da quello di 15 anni fa evidentemente perché le sfide sono diverse ma senza le radici in quelle prime ricerche non si sarebbe potuto sviluppare il lavoro successivo e così fanno gli strumenti ma se non ci dotiamo di strumenti più efficaci non lasciamo neanche sviluppare gli strumenti che ci sono non facciamo un buon servizio né diciamo alle minoranze tradizionali né alle società nel loro complesso che devono far fronte a delle sfide nuove quindi la sfida è il diritto delle differenze che è un passo in più rispetto alla tutela delle minoranze gestire appunto una società nel suo complesso e soprattutto e qui arrivo al secondo e ultimo punto mettere in discussione il paradigma maggioritario cioè l'essenza se vogliamo più elementare della democrazia e qui diventa difficile e sottile il problema è che la maggioranza non ha sempre ragione la maggioranza non può vincere sempre altrimenti siamo nei guai e come si fa evidentemente a non a garantire i diritti di minoranza nel senso più ampio del termine senza violare il principio democratico in un modo solo garantendo certamente i diritti alle minoranze specifiche ma soprattutto estendendo a tutta la società gli strumenti di partecipazione e questo è il secondo punto la partecipazione come fare questo passaggio e qui lo vediamo svilupparsi in maniera come dei funghi che nascono qui e lì però in maniera ancora non omogenea delle forme partecipative delle richieste di inclusione nei processi decisionali che consentano anche a chi altrimenti sarebbe strutturalmente in posizioni minoritarie di partecipare alla formazione delle decisioni non di imporre la propria ma in qualche modo di far sentire la propria voce in questo modo gli strumenti e le decisioni non diventano necessariamente migliori anzi forse in qualche caso possono anche un po' peggiorare ma è l'unico modo perché siano legittimati questo è un passaggio secondo me essenziale è come quando si mette una diga i processi decisionali tradizionali classici basati sulla democrazia rappresentativa parlamentare hanno dei limiti che stanno venendo sempre più fuori in maniera evidente è come se si mette una diga su un fiume poi il fiume trova degli altri modi di scorrere degli altri canali però non sono sistematici ecco rendere sistematica la partecipazione è una sfida fondamentale e indispensabile si stanno facendo tantissime cose sul piano internazionale si prova in tutti i modi a coinvolgere la società civile lo si prova sul piano interno sul piano locale tanti tentativi si stanno facendo perché si capisce che è l'unico modo per rendere legittime realmente percepite come tali le decisioni però non è abbastanza però questa è la strada su cui ancora bisogna lavorare ed è tanto più necessario lavorare su questa strada in un contesto in cui le democrazie se ci pensiamo bene soprattutto guardando l'area geografica tradizionale di cui si occupa OBC ma forse non solo diventano più autoritarie le democrazie lo diventano stanno diventando più autoritarie soprattutto attraverso l'abuso del principio di maggioranza e questo è un problemino c'è una quasi come dire una una cintura che va dalla Russia lasciamo stare la Bielorussia l'Ucraina l'Ungheria fino alla la Bulgaria la Macedonia la Turchia e si stanno moltiplicando questi fenomeni di autoritativismo come si dice autoritarismo democratico attraverso l'abuso del principio di maggioranza fino agli esempio delle ultime elezioni turche dove insomma se non ci piace come sta andando se non va bene si rivolta finché non si ottiene la maggioranza adesso lo metto in modo un po' brutale ma questa è la tendenza questo è quello che esattamente va messo in discussione come si contrasta il fenomeno dell'abuso del principio di maggioranza si fa soltanto attraverso delle reti di partecipazione non certo tenendo fuori paesi dall'integrazione sovranazionale come adesso c'è questo grandissimo aspetto rispetto alle eventuali ulteriori allargamenti dell'unione europea tra l'altro cosa impossibile quando abbiamo bisogno di questi stessi paesi per regolare questi flussi di passaggio quindi la rutta balcanica in qualche modo rende impossibile l'esclusione di questi paesi o comunque invece cercando di avere delle politiche inclusive sapendo che forse l'inclusione in un sistema maggiormente democratico maggiormente partecipativo può aumentare la qualità democratica di questi paesi certo oggi non basta nemmeno più l'eldorado della prospettiva dell'adesione all'unione che funzionava fino a una decina d'anni fa e forse il punto di passaggio è stata l'adesione della Croazia nel 2013 quando si è deciso di procedere a questa adesione senza avere concluso il capitolo riguardante i diritti umani in particolare i diritti delle minoranze ma sì non importa prendiamolo lo stesso e poi questa aspettativa di interesse per l'integrazione europea certamente sta venendo un po' meno insomma è meno interessante oggi di allora forse si potrebbe quasi dire che non basta nemmeno più poi questa adesione oggi probabilmente se dovessimo misurare la qualità diciamo della della democrazia in Croazia e quella in Serbia ma probabilmente insomma in Croazia le cose stanno un po' peggio che in Serbia dal punto di vista dell'autoritarismo ma in ogni caso questo passaggio resta indispensabile magari non più sufficiente ma indispensabile e quindi servono e chiudo dei canali di dialogo istituzionalizzato sui vari livelli ognuno per quello che può fare dal piano internazionale a quello sovranazionale a quello interno a quello subnazionale fino a quello locale questi dialoghi istituzionalizzati sono fondamentali ma appunto non sufficienti anche perché bisogna evitare di cadere in alcuni tranelli e questi cerco di buttarli lì in maniera provocatoria e sintetica e conclusiva intanto ogni tanto si fa l'errore di vedere una contrapposizione tra società civile e società politica come se appunto fossero due cose realmente diverse ma sono in realtà rappresentative entrambe forse in modo diversificato per cui c'è bisogno di una integrazione maggiore probabilmente per cui c'è la società civile o quella attigua quella parapolitica o quella di contrasto per partito preso rispetto alle scelte politiche in realtà c'è bisogno di un lavoro che è molto difficile di integrazione tra società civile e società politica per evitare una contrapposizione che blocca invece di aiutare e questo non lo so come si possa fare ma certamente è una cosa un problema da porsi l'altra cosa speculare a questa l'altro rischio è quello di credere che la società civile sia migliore della società politica da quando sto facendo un'esperienza pseudo politica nel senato mi sono reso conto di una cosa che non avevo capito da prima che l'accademia è assolutamente uguale se non peggio rispetto alla politica rappresentativa le persone sono sempre le stesse le dinamiche sono sempre le stesse la società civile funziona tutto sommato con dei criteri che non sono tanto diversi e quindi anche qui cercare di portare a sistema la società civile senza pensare che ci sia chi ha il dono della verità o la politica attraverso la forza e quindi impone la verità perché lo decido io e perché ho gli strumenti per farlo oppure quella della presunta superiorità morale non porta del tutto avanti e in ultimo altra cosa difficile che anche qui non saprei come fare ma comunque dal punto di vista dell'alianesi bisogna comunque metterla sul piatto cercare di smascherare la società politica travestita da società civile come accade molto di frequente in tantissimi paesi soprattutto dell'area dell'Europa centro-orientale insomma sappiamo che la società civile in molti di questi paesi non è altro che l'emanazione della società politica con altri mezzi e anche qui naturalmente le cose sono problematiche quindi la partecipazione l'inclusione la creazione di processi decisionali a rete che coinvolgano la società civile non è la panacea però è indispensabile diciamo che è necessaria ma non sufficiente ecco tutto questo obbliga a lavorare per l'appunto in sintesi riassumo quello che volevo cercare di dire anche se è molto difficile in effetti perché sono dei temi particolarmente complessi è necessario lavorare su strumenti di integrazione delle società più che delle persone questo mi pare importantissimo di valorizzazione delle differenze che non possono essere negate e di democrazia partecipata come unico contrappeso diciamo alle derive della democrazia maggioritaria e quindi di stare attentissimi al principio di maggioranza certo bisogna in qualche modo porsi le domande giuste e in una fase come questa di difficoltà complessiva e di tentativi di banalizzazione è molto difficile ma soltanto ponendosi le domande giuste si trovano forse delle soluzioni così come è successo negli anni 90 con quella prima rotta dei Balcani purtroppo ci poniamo troppo spesso delle domande sbagliate forse si danno delle risposte superficiali e proprio per questo è importante avere delle sedi come questa e come altre per porsi le domande giuste e anche per arrivare alla conclusione ogni tanto che qualche domanda era sbagliata perché questo fa parte di un approccio intellettualmente onesto ai problemi e quindi un buon compleanno anche da parte mia ai soggetti a uno dei soggetti che si pongono le domande giuste o comunque aiutano gli altri a porsele tanto grazie mille penso che l'applauso abbia esaurito la mia possibilità di ringraziarti con le parole giuste ma è davvero sentito così il ringraziamento per lo stimolo che ci hai dato in tante direzioni appunto in primis a porci le domande giuste o almeno a ragionare insieme per provare a trovare le domande giuste prima ancora delle risposte tante delle cose che hai detto le discuteremo nei tre workshop che stanno per iniziare però non vorrei togliere a nessuno la possibilità di rivolgere a te subito o comunque almeno alcune delle domande qualche minuto ce l'abbiamo credo e quindi se comparisse un microfono e qualcuno di voi o se no utilizziamo quello qualcuno di voi volesse cominciare a rivolgere al senatore Palermo la sua di domanda che sia giusto o sbagliata e anche considerazioni senza domande naturalmente sarebbe benvenuto io intanto che cercano il microfono vi informo che grazie che le tre sessioni parallele naturalmente non le possiamo svolgere in questa sala quindi ci dividiamo per tornare qui infatti per questo abbiamo chiesto al professor Grassi di attenderci qua dall'inizio alla fine nel senso di ricordarvi che vogliamo poi riportare alla discussione che facciamo in tre separate sedi a un ragionamento complessivo quindi ci muoveremo poi dopo questi pochi minuti di domande a Francesco Palermo ci muoveremo nelle sedi dell'università di Roveretto qua davanti quindi semplicemente seguite gli osservatori che vi porteranno nelle aule giuste intanto se qualcuno ha una domanda vedo riconosco Agostino Zanotti e quindi lo introduco io dovesse esserci qualcun altro che invece non conosco o che non vedo perché sto diventando cieca vi prego di introdurvi da soli Sì grazie una domanda velocissima quando parla appunto di mettere in discussione l'esuberanza della maggioranza attraverso la questione della partecipazione non significa in qualche modo rivedere il leaderismo impegnato diciamo diffuso col quale si rappresenta la politica al giorno d'oggi e in qualche modo rimettere valore ai corpi intermedi della società quindi non più il nostro leader che parla direttamente col popolo ma che si degni di parlare col Parlamento e con tutte le commissioni che costituiscono la base della nostra Costituzione grazie grazie Agostino Zanotti qualcun altro vuole intervenire così raccogliamo due tre domande abbiamo il professor Bonvecini che a sua volta si aggiunge allora devo dire che ascoltando la descrizione che faceva Francesco Palermo sembra di vedere il tragitto che sta perseguendo oggi la democrazia italiana la legge elettorale e quindi una grande maggioranza la regola della maggioranza quindi per i cinque anni in cui il governo opererà io mi chiedo è un tragitto ormai come posso dire non ci sono delle altre formule punto di domanda e qual è l'alternativa alla legge della maggioranza cioè in fondo una democrazia si regge sulla legge della maggioranza ma la democrazia permette anche che la maggioranza si cambi ogni cinque anni ogni quattro anni quello che è oggi credo che prevalga il tema della governabilità ne parliamo tantissimo anche a livello di unione europea quindi capire esattamente qual è l'alternativa sarebbe importante è ancora più difficile però capire quali sono gli strumenti partecipativi cui tu facevi riferimento per aggiustare un po' questa tendenza ormai ineluttabile direi verso una maggiore capacità di governo c'è un'altra persona che ha alzato la mano sì ma io però non la conosco quindi le chiedo di presentarsi mi chiamo Stefano Feit sono un antropologo volevo intervenire anche sul problema sollevato che effettivamente sembra quello sentito di più quello della democrazia maggioritaria in realtà secondo me la democrazia maggioritaria non dovrebbe esistere nel momento in cui c'è la democrazia costituzionale la maggioranza non può fare quel che vuole posto questo mi domando ci sono tre candidati alle presidenziali americane che si sono espressi in maniera assolutamente sconvolgente secondo me negli ultimi tempi uno Jeb Bush ha dichiarato che gli unici rifugiati che saranno accolti saranno cristiani dalla Siria non credo che siano proprio tantissimi un altro ha paragonato i rifugiati sempre siriani a dei cani rabbiosi e il terzo Trump è dell'idea che i musulmani americani dovrebbero essere schedati perché sono tutti potenzialmente pericolosi evidentemente poi ci sono intellettuali in Francia che evocano su interviste al Corriere della Sera prospettive di deportazione della popolazione musulmana francese cittadini francesi pari agli altri ma evidentemente non proprio pari agli altri ci sono intellettuali tedeschi che chiedono la costruzione di muraglie e in Italia vabbè non serve non sappiamo tutti cosa sta succedendo e ora io mi domando com'è che questo non è il tema di cui parlano tutti tutte queste tre domande riguardavano il problema di queste maggioranze di questa società civile che si considera maggioritaria e diventa feroce nella letteratura scientifica si parla di post democrazia che come suggeriva Zagrebelsky spiega spiega poco spiega non spiega dove stiamo andando spiega cosa era e non cosa sarà è post qualcosa non sappiamo dove stiamo andando e però non si sta affrontando il problema tutto lascia pensare che stiamo andando in una direzione veramente pericolosa e allarmante per tutti non solo per i rifugiati come vengono trattati i rifugiati prima o poi potremmo essere trattati noi ecco fine grazie se non vedo nessun'altra ah no vai ti lascio presentare da te benché se no sembra che siete tutti amici miei non è giusto grazie infinite Andrea Capussela il professor Palermo ci diceva della necessità di favorire la partecipazione anche come strumento per evitare una deriva verso il dominio delle maggioranze c'è però un potenziale paradosso ho letto recentemente una teoria molto persuasiva di Danny Rodrik su come sono nate le democrazie liberali quelle che proteggono i diritti di proprietà che interessano ai centi più ricchi i diritti politici che interessano tutti gli altri e i diritti civili che tipicamente interessano soprattutto quelli che sono minoranza quindi non sono protetti dal potere decidere e secondo lui un'analisi storica anche come dire strutturale del componimento di interessi che poi dà luogo alla nascita di una democrazia liberale secondo lui è più facile che nascano democrazie liberali laddove non esistono come dire minoranze precostituite quindi dove quella grande massa della popolazione che ha interesse ad avere i diritti politici nei confronti dei ceti più ambienti ha anche allo stesso tempo come dire nessuna parte di essa vede se stessa come una sorta di minoranza permanente quindi tanto più come dire le società si diversificano tanto più è possibile che queste minoranze permanenti in qualche modo si creino e questo il paradosso è che questo rende poi paradossalmente più difficile di difendere quei diritti di minoranza perché la maggioranza ha meno interesse a quello non c'è qui alcun giudizio di valore è solamente sottolineare il fatto che uno strumento in un certo senso pur essendo entrambi necessari uno strumento in qualche modo va contro l'altro grazie grazie a te io se non ci sono altre domande aggiungo una frase da parte mia su alcuni dei temi che tratteremo nei diversi workshop e noi così ragionando in questi anni ci siamo resi conto che oggi si discute molto di più di prima di Europa e anche di quello che avviene nei singoli paesi con sempre maggior interesse le classi politiche di ciascuna democrazia che costituisce l'Unione Europea si deve confrontare con l'opinione che i vicini hanno di loro quindi se la polizia bulgara maltratta i profughi adesso se ne discute in qualche modo l'elite politica bulgara deve rispondere a una richiesta esterna non solo della commissione non solo del consiglio ma anche delle opinioni pubbliche e dei paesi vicini in questo per noi c'è un processo dentro lo spazio europeo di democratizzazione che non è attraverso meccanismi elettorali ma è attraverso la sfera pubblica il dibattito la consapevolezza il controllo reciproco e questo quanto secondo te davvero può essere costitutivo di un passaggio in avanti e il secondo aspetto che ti chiederei è così guardando a che cosa di sensato ci pone il terrorismo internazionale davanti posto che naturalmente la brutalità la violenza cieca ci spaventa e basta ma ci sono anche delle argomentazioni che portano avanti una di queste mi pare di sentire in tutte le dichiarazioni violente aggressive e deligiaristi c'è sempre la richiesta di smetterla di usare il doppio standard i vostri morti valgono di più dei nostri le vostre tragedie sono le uniche che esistono quello che avviene da noi non c'entra questo elemento in fondo può essere secondo te prendendolo sul serio e prendendolo come stimolo positivo in una situazione catastrofica e potenzialmente può degenerare moltissimo una cosa che si è presa seriamente in questo caso non serve a democratizzare né le democrazie né l'Unione Europea ma i rapporti di forza a livello internazionale avevo detto che era difficile la relazione le domande sono ancora peggio però c'è un filo comune quindi provo a trattarlo lungo questo filo che è certamente il leaderismo la post democrazia le derive autoritarie e i pericoli che sono molto ben presenti insomma come vedo anche dalle osservazioni che sono state fatte ora il fenomeno mi pare incontestabile è davanti ai nostri occhi la mia sensazione è che il leaderismo sia evidentemente l'effetto e non la causa di questi fenomeni e qual è l'effetto qual è la causa che sta alla base di questo effetto è che a guardarla con gli strumenti costituzionali poi torno alla democrazia costituzionale la straordinaria e fantastica semplificazione del processo decisionale operata con le strutture della democrazia liberale in particolare con il parlamentarismo non funzionano più andavano bene per una fase in cui parlamento ed esecutivo rappresentavano due blocchi anche sociali che avevano tutto l'interesse a tenersi reciprocamente in scacco sotto controllo e quindi i parlamenti erano i luoghi in cui si trovava il compromesso rispetto a diverse esigenze sostanzialmente bipolari diciamo più o meno l'aristocrazia o la sì l'aristocrazia o l'alta borghesia e da un lato e dall'altro lato diciamo la nuova e più bassa borghesia emergente nelle categorie ottocentesche da un centinaio d'anni almeno i parlamenti sono dei simulacri di democrazia non sono la sede della democrazia sono la sede di una piccola parte del procedimento democratico sono importanti hanno un ruolo ma non possono essere le sedi in cui si tiene insieme la società non lo sono più non lo possono necessariamente essere allora questa torsione ormai che abbiamo impressa dal fatto che ci troviamo costretti dentro delle strutture decisionali che non sono più adeguate a rispondere a tutte le sfide dei tempi moderni provoca la reazione del liderismo della ulteriore semplificazione faccio tutto io risolvo io in molti casi funziona così si annichilisce anche il parlamento e dopodiché anche quel piccolo margine che era rimasto viene trasferito sostanzialmente in capo al grande leader ora sulla situazione italiana mi sentirei un po' di tranquillizzare anche se il fenomeno è assolutamente lo stesso non c'è nessun dubbio su questo ma diciamo che abbiamo talmente tanti margini diciamo di semplificazione del procedimento decisionale e tanti margini per rendere più efficiente il sistema senza automaticamente rischiare la deriva autoritaria che insomma qualcosina ci può anche stare stando attenti molto attenti evidentemente però insomma abbiamo un sistema che funziona in negativo un sistema in blocco ma mai un sistema in positivo e allora diciamo secondo me qualche piccola concessione ci sta tenendo molto alta l'attenzione rispetto ai rischi perché il fenomeno è esattamente lo stesso che si verifica altrove qual è l'alternativa chiedeva Gianni Bonvicini alla legge della maggioranza l'alternativa non è proprio un'alternativa perché questa rimane il complemento rispetto alla legge della maggioranza e la legge della partecipazione cioè il sistema unico per coinvolgere le minoranze strutturali che qualcuno menzionava che sono esattamente quelle che non troveranno mai soddisfazione attraverso la democrazia parlamentare perché in ogni caso saranno sempre costrette ad essere minoritarie pensate appunto alle minoranze etnonazionali ed altro la partecipazione è quel sistema che anticipa l'opposizione come possiamo dire si include l'opposizione a certe decisioni attraverso un coinvolgimento quanto prima possibile nella preparazione di una decisione che poi viene formalizzata nei canali tradizionali il Parlamento i governi ma che viene anticipata e viene fatta prima ora qual è l'ostacolo a questo certo alla fine poi bisognerà in qualche modo arrivare ad una decisione e non è necessariamente quella imposta dalla minoranza strutturale va bene ma in ogni caso gli argomenti sono stati portati qual è l'ostacolo a tutto questo è la lentezza del processo ci sono alcune le democrazie che funzionano che sono ormai una manciata e sono essenzialmente riconducibili ai paesi nordici dalla Danimarca in su fine perché tutte le altre sono in crisi devastante e prima o poi arriverà anche in quei paesi lì hanno una gestazione media di sette anni per una legge queste sono democrazie fortunate beati loro possono ancora permettersi una cosa del genere il Parlamento italiano fa in media tre leggi alla settimana ora questo è il vero il vero problema strutturale che la partecipazione rallenta la decisione cosa si fa rispetto a delle decisioni che devono essere prese in fretta lì bisogna ricorrere alla democrazia costituzionale agli strumenti che sono stati appunto anche molto ben indicati da Stefano Feit chiaramente la democrazia costituzionale è il percorso è come dire il quadro il perimetro il ring della box come diceva Roberto Bin ma al suo interno poi sono i pugili che fanno le decisioni per cui la democrazia costituzionale è fondamentale nel delimitare il perimetro ma da sola non basta perché dentro c'è tutto l'indirizzo politico si può decidere a maggioranza forse ancora un po' troppo si può decidere se fare una legge di stabilità che tagli i fondi di qua e li metta di là che informi la RAI in un certo modo che riformi la legge costituzionale sono tutte cose che non richiedono necessariamente il ricorso alla democrazia costituzionale questo è un problema certo che i contrappesi non possono necessariamente o almeno non esclusivamente essere visti in altre e alternative forme di democrazia maggioritaria come i referenda quando sono visti normalmente come la panacea e funzionano esattamente allo stesso identico modo cioè vince una maggioranza anzi una minoranza che in quel momento è costituita come maggioranza allora benissimo come contrappeso ma non è la risposta alla legge della maggioranza la legge della maggioranza è quella alternativa anzi complementare alla legge della maggioranza è la legge della partecipazione con il grande limite tuttora esistente della velocità necessaria del cura decisioni e qui non c'è ancora una risposta ma stanno venendo fuori dei tentativi certo si stanno affinando questi strumenti si stanno affinando soltanto in maniera molto sporadica un po' qui e lì e in tutto questo e chiudo sulla domanda di Luisa non lo so però certamente gli effetti positivi della famosa farfalla che batte le ali in Cina e fa crollare l'economia della California o viceversa non mi ricordo mai funziona anche in chiave positiva complica tremendamente la faccenda ma stimola la creazione di reti di società civile transnazionali che sono fondamentali perché non è indifferente come si comporta la polizia macedone perché questo ha una ricaduta rispetto al comportamento di altri paesi non è nemmeno indifferente il linguaggio che si usa perché alla fine la scelta del linguaggio crea il frame mentale ho scoperto recentemente che in Slovenia dopo che è stato tanto criticato il muro creato dall'Ungheria quest'estate rispetto al confine con la Serbia la Slovenia ha fatto esattamente la stessa cosa con il filo spinato ma si chiama barriera tecnica e se la si chiama barriera tecnica è tutta un'altra cosa e funziona sicuramente molto meglio e addirittura l'Austria ha le porte come la porta con mi ricordo più l'espressione ma è qualcosa con una porta che quindi non è chiusa si può aprire ma è una porta con dei muri intorno questo per dire che cosa che la società civile mettendosi in rete ha la possibilità anche di smascherare alcune di queste finzioni e anche di suggerire delle soluzioni attraverso la circolazione delle best practices tanto di più non lo so non credo ripeto non credo che ci siano panacee su questo ma il vantaggio di poter più facilmente imparare da esperienze svoltesi altrove e soprattutto di integrare i confini in qualche modo attraverso queste reti ha sicuramente degli aspetti positivi anche se come sempre il bene e il male raramente si dividono con un colpo netto grazie rinnovo i miei sentiti ringraziamenti a Francesco Palermo e vi invito ad essere estremamente disciplinati nel raggiungere le tre aule in cui discuteremo dei tre position paper di osservatorio e torneremo a discutere qua in plenaria alle 5 insieme a Ennio Grassi che mi ha tenuto compagnia in questa prima sezione plenaria grazie a tutti grazie a tutti